Abbiamo scelto questo format perché il desiderio che abbiamo in questo momento è cercare di essere divulgativi, cioè far vedere al territorio, alle famiglie, ai savonesi, ai loro figli, quindi ai nostri potenziali studenti, le cose che qui vengono fatte, sia dal punto di vista dell'attività formativa, sia dal punto di vista di quella di ricerca. Perché ciò che ci interessa è cercare di, con un linguaggio accessibile, far capire che un po' di cose le stiamo facendo, le stiamo facendo bene e quindi vorremmo farlo conoscere al nostro territorio. L'appuntamento dunque per tutti i savonesi è? Venerdì 24 di novembre alle ore 21 al Chiabrera. L'ingresso è gratuito, è un'iniziativa fatta per il territorio, non autoreferenziale per l'università, quindi quello che ci auguriamo è di vedere pochi docenti, pochi ricercatori, ma tantissimi giovani e tantissime famiglie interessate a capire che cosa avviene qua dentro.